Il decreto che riforma i controlli sul biologico aggiorna le disposizioni ferme a 22 anni fa, adeguandole anche alle leggi europee ed alla crescita di questo comparto. In Italia le imprese inserite nel sistema di certificazione per l'agricoltura biologica sono poco meno di 60.000. Nel corso del 2015 hanno quindi scelto di convertire la propria impresa oltre 4.500 operatori, con un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. La superficie coltivata in Italia è di un milione e mezzo di ettari, con un aumento complessivo, rispetto all'anno precedente, del 7,5%. Numeri che fanno del nostro paese il leader europeo per numero di operatori, un primato da difendere. Per rafforzare il sistema è stato deciso di attribuire al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri, non solo l'attività di controllo sugli operatori, ma anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo. Il decreto, dunque, ha l'obiettivo di rendere più corretti e trasparenti i rapporti tra controllori e controllati. In particolare, la norma introduce meccanismi per rafforzare la leale concorrenza e per l'eliminazione dei conflitti di interessi degli organismi di controllo. Il decreto legislativo istituisce anche una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico, fruibile da tutti gli operatori del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.